Grazie, grazie veramente per l'invito. Sì, in Liguria il vento sta cambiando, è cambiato tre anni fa con la vittoria alle regionali, è cambiato l'anno scorso, io da un anno che sono sindaco, e poi è cambiato quest'anno con Genova e con la Spezia. Noi abbiamo ereditato a Savona un comune che erano ormai solo macerie, mi spiace dirlo davanti a questo sindaco, macerie figurate, però erano macerie. Un comune come tanti altri in predissesto, e fra l'altro ricordo che il predissesto penalizza i comuni fortemente, ancora più che il dissesto questa procedura, e lì bisognerebbe un pochino arrivare a ritoccarla. 14 milioni di disavanzo, questo ci ha lasciato il centro-sinistra, questo ci ha lasciato oltre 20 anni di centro-sinistra. Ci siamo rimboccati le maniche, in quest'anno abbiamo fatto scelte totalmente impopolari, ma qualcuno le doveva fare, qualcuno le doveva prendere. È difficile quando si arriva in un comune, come diceva il mio collega, con le aliquote sparate al massimo, il disavanzo, la corte dei conti col fiato sul collo, riuscire a mettere in sicurezza gli edifici scolastici, i fiumi e il welfare, mantenere un welfare, i nidi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto iniziare a praticare dei tagli, tagli oculati che però erano necessari e che già dopo il primo anno hanno dato i loro frutti. Dall'opposizione ci siamo ritrovati, da quell'opposizione ci siamo ritrovati, c'è inizia le rette degli asili, vergogna perché tagliate questo, perché tagliate l'altro. Eppure noi in questo anno abbiamo cercato veramente di rimettere in piedi la macchina comunale. Non è semplice, perché per la politica è più facile per creare consenso mettere i fiorellini all'edificio piuttosto che ricostituire le fondamenta come abbiamo fatto noi in questo primo anno. Come abbiamo fatto? Ad esempio vincendo come prima città italiana un claims londinese contro i derivati. Il centro-sinistra aveva investito nei derivati, la Deutsche Bank che ci ha fatto causa da Londra l'abbiamo vinta, abbiamo fatto scuola per questo e abbiamo radicato la causa a Milano dove speriamo di uscire nuovamente vittoriosi. Abbiamo iniziato a partecipare a bandi, abbiamo vinto nel giro di due mesi dal mio insediamento giugno a fine agosto avevamo già proposto un progetto per il bando riqualificazione periferi urbane vinto 18 milioni di euro per riqualificare una parte importante del nostro territorio. Stiamo stringendo protocolli, convenzioni con privati ma anche per esempio con la protezione civile, con gli alpini per cercare di ripulire i nostri fiumi, di mettere in sicurezza il nostro territorio. Ci stiamo inventando veramente molte cose compreso la convivenza fra migranti e i nostri cittadini perché quando abbiamo Savona non è all'interno dell'area di crisi complessa però molti savonesi lavoravano in industrie che sono in crisi e che sono vicine a Savona dove sono in area di crisi complessa. Come facciamo a spiegare ai nostri cittadini che noi non possiamo dare loro servizi ma i migranti quei servizi ce li hanno? Vi porto un piccolo esempio appena insediata l'anno scorso vado a fare i saluti istituzionali che tutti noi sindaci facciamo vado a incontrare il prefetto e il prefetto mi comunica tranquillamente che nel giro di pochi mesi nel mio territorio, nel quartiere più popoloso e più difficile della mia città avrebbe insediato un hub dei migranti. Il sindaco non ne sapeva nulla perché queste cose volano sulla nostra testa perché il problema dei migranti e io la smetto di chiamare l'emergenza perché dopo tutti questi anni non è più un'emergenza è un problema che purtroppo picchia sui sindaci e i sindaci devono gestire ogni giorno. Io ho detto no all'hub, ho detto no all'accordo fra la Curia e la Prefettura. Siamo andati avanti e siamo riusciti a scongiurare l'hub nella nostra città. Siamo andati avanti con la mappatura dei centri una mappatura delle strutture con la denuncia con le strutture che non funzionavano bene con una richiesta che ho fatto in prima persona al Prefetto di avere un protocollo per le emergenze sanitarie perché mi è capitato di aperture di emergenze sanitarie di venirne a conoscenza per caso. Io che comunque sono responsabile della salute dei miei cittadini. Abbiamo fatto dei protocolli di lavoro dopodiché abbiamo proposto e avevo proposto a Genova al Ministro Minniti uno SPRAR ebbene sì, ho proposto uno SPRAR per i minori stranieri non accompagnati a livello distrettuale. Il motivo qual è? E' che purtroppo noi sindaci i problemi li dobbiamo risolvere perché noi sindaci i nostri cittadini li vediamo ogni giorno quando camminiamo per strada. I miei cittadini, molti, hanno il mio numero di telefono, hanno il mio cellulare, mi chiamano, vengono e si lamentano. Perché abbiamo fatto questa scelta dello SPRAR per i minori stranieri non accompagnati? Perché il sindaco è obbligato a prendere un minore che è all'interno del suo territorio. Per noi, per il Comune di Savona, questi minori stranieri non accompagnati costano ogni anno oltre 300 mila euro. Di questi 300 mila euro, lo sapete benissimo, solo la metà viene riconosciuta. Per questo motivo abbiamo fatto un progetto che ci permette di spendere e di vedere immediatamente quei soldi rientrare nelle nostre casse, non solo più il 50%, bensì il 100%. Perché io voglio quei 160-180 mila euro che in questo modo ogni anno libero, voglio poterli dare ai miei cittadini, darli servizi ai miei cittadini, a persone che hanno bisogno, a persone che ormai sono in coda quotidianamente presso i nostri servizi sociali. In quest'anno, inoltre, abbiamo fatto nostro un grande cavallo di battaglia, per esempio dei Cinque Stelle, la trasparenza. La città di Savona, il sindaco di Savona, è stato il primo sindaco ad aderire e dare poi realmente prosecuzione al sai chi voti. La trasparenza per quanto riguarda le partecipate. Abbiamo fatto estrema attenzione ai costi dell'amministrazione e della politica, ci siamo ridotti del 35% i costi. Abbiamo tagliato le indennità, abbiamo rinunciato alle trasferte, paghiamo di tasca nostra, ai cellulari di servizio, a tutto. E poi una grande attenzione all'ambiente. Anche lì, come fare nel momento in cui non si hanno risorse, basta ingegnarsi tra un mesetto andiamo a Boston, a spese nostre, per parlare alla più grossa congresso sull'ambiente internazionale. Savona è la prima città europea che è aderito al Lead for Cities. Il Lead for Cities è un qualcosa di importante per mappare la propria città e da lì partire con l'efficientamento energetico, idrico, ma anche sociale. Per me è un tassello estremamente importante. Costa, costa partecipare al Lead for Cities. Nel nostro caso siamo riusciti ad ottenerlo gratuitamente. Perché? Ma perché ci siamo studiati una formula. Perché abbiamo provato a contrattare con gli americani e ci siamo riusciti ad ottenere una postilla in quel contratto che ci levasse le FID e cercando come merce di scambio di offrire il più ampio spazio, la più ampia visibilità a questa possibilità che hanno tutte le città. E lo stiamo facendo. Questo credo che sia un modo di lavorare rimboccandosi le maniche, chiedendo veramente al governo che cambi le cose, ma nello stesso tempo cercando di governare noi i nostri problemi, perché non possiamo continuare a demandare. Perché i bambini che vanno a scuola, vanno dentro le nostre scuole, sappiamo che cosa hanno le nostre scuole. Le conosciamo tutte le crepe e le controsoffittature pericolanti le nostre scuole. Le conosciamo lo stato dei nostri fiumi e dei nostri rii. Quindi dobbiamo comunque rimboccarci le maniche e lavorare tutti insieme, perché ormai ci rendiamo conto che siamo in trincea noi sindaci. Grazie.